Siamo in compagnia del Preside Salvatore Amata, Istituto Comprensivo Statale Capuana di Palermo. Buongiorno Preside, grazie intanto per il suo intervento. Volevamo sapere dal giornale che progetti avete attivato, o state attivando, pensate di attivare, sul bullismo e il cyberbullismo nel vostro istituto. Allora, noi dal 2016, c'è l'anno in cui sono arrivato in questa istituzione scolastica, abbiamo avviato tutta una serie di interventi mirati alla formazione dei docenti, alla informazione ai genitori e tutta una serie di attività didattiche, pedagogiche, rivolte ai nostri alunni. Il fenomeno in questa istituzione scolastica è del tutto inesistente. Ci sono verificati appena un episodio nel 2016 come nel 2017, quindi molto marginali. Aspettiamo, in ogni caso, dopo le mie guide parate del dicembre del 2017 dal Ministero, la formazione che inizierà a breve tutto il personale docente, proprio sulla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno delle istituzioni scolastiche. formazione che è demandata dalla Scuola Polo Liceo Linguistico Nini, che sarà a cui parteciperà una buona parte dei nostri docenti.